Di quattro anni sul miglio, otto in prima, due in seconda, solo Barara, gettonato al totalizzatore, numero due Saverio Galli in Salchi, macchine in movimento, quattordici buoni quattro anni, miglio sesta del convito, un po' arretrato solo Arbebi, numero otto, che ripiega. Buono all'allineamento, Starter Angelo Felicelli, prende velocità la macchina, si ritrae anche Scoop Tella, imitato da Cesar Starlight, via la macchina, chiusura, scintille per il comando, la Sonia e solo Barara, che persevere a largo Sparbiere, passa solo Barara, Sparbiere rimane a largo, si completa il lancio in tredici, e così solo Barara al comando. Partito alla grande e superba par, in terza posizione lunga i Birilli, e riviene bene anche solo Arbebi. Nasino al vento per Sparbiere, 28 e 400, e solo Barara chiaramente corre al comando, e Sparbiere si deve purtroppo adeguare. Non c'è spazio per Sparbiere. I 600 volanti, 42 e 4. Ora potrebbe un po' respirare il leader. Poi la Sonia, superba, solo poi Solar Baby, e si va al completamento del mezzomiglio. Mezzomiglio iniziale, 58 e un battito, 15 e 7 di frazione. E di fronte, sempre a buona andatura solo Barara, Sonia a qualche metro di distanza. Riparte solo Barara, timbra un chilometro notevoli, 12 e mezzo, 14 e 4 di frazione. Non ammette deroghe, non ammette interferenze, solo Barara. Poi la Sonia è superba, è praticamente chi era lungo i Birilli. Ancora un 14, 1,26 e mezzo, Superba si affaccia. Solo Barara ora è sostenuto, ma c'è ancora buon margine. Solo Barara, Sonia che litiga col Superba, e poi Solar Baby che sposta. Solo Barara ancora con buon margine, Sonia cerca l'aggancio. Solo Barara in vantaggio, il palo si avvicina. Solo Barara, non c'è più tempo. Chanteclair, Saviero Gallo. Terzo a largo di tutti, la Subsonica. 1,55 e 9, 1,12 e 4. Ha fatto un po' paura questa Sonia, veniva aggressiva. Ma Chanteclair, il Gallo del Pulito, Saverio Gallo. Con un solo Barara tirato a lucido, si migliora ancora. 1,12 e 4. Ma chi corre alla grande è questa Sonia, Sonia. Annunciata dal team d'Alessandro, vedete, gli arriva al salchio quasi, mentre arriva a bomba a largo di tutti, il 10 di Subsonica, e completa la trio. 2,1 e 10. Solo Barara, Chanteclair. 1,70 in chiusura, linea allo studio.